E' una notizia che molte famiglie del centro storico di Teramo aspettavano dall'ultimo evento sismico. Per una scuola media inagibile che chiude nel cuore della città, lasciando un vuoto incredibile, un'altra prenderà vita a partire da ottobre 2019. Quel buio urbanistico e fisico lasciato dalla scuola Savini in via Carducci sarà mitigato dall'avvio di una scuola secondaria di primo grado nell'edificio del convitto delfico nella diecente Piazza Dante. Per il comune di Teramo è una vera ripartenza, anche economica, del centro storico. Una scuola media che nasce nello stesso edificio del liceo classico, una scuola in centro storico. E questo è importantissimo per la città di Teramo? Sì, siamo molto soddisfatti perché al tavolo provinciale tenutosi un mese prima, qualche tempo prima di Natale, si è firmato questo documento, ero presente io in sostituzione del sindaco, in cui si è dato l'avvio all'istituzione di questa nuova scuola secondaria di primo grado. È una notizia importante perché tutto ciò che arricchisce l'offerta formativa della città e soprattutto con la creazione di una nuova scuola che storicamente qui in passato c'è stata, c'è stata credo fino al 2012 se non erro, e quindi si riporta una nuova scuola al centro della città. I genitori interessati a descrivere i propri figli alla nuova scuola media di Piazza Dante potranno avere in sede tutte le informazioni necessarie a partire da oggi. C'è questa volontà di ricreare questo segmento tra la scuola elementare e la scuola superiore. Mancava proprio questo pezzettino, anche perché noi abbiamo sia il personale sia le strutture adeguate per tutto questo. Infatti abbiamo la possibilità di offrire la settimana corta con due rientri settimanali e poi addirittura il prolungamento dell'orario scolastico fino alle 18 perché abbiamo un personale educativo competente e disponibile e quindi c'è uno sportello didattico, c'è la possibilità di attivare dei corsi di teatro, di musica, di canto, di danza, anche di arti grafiche, anche perché insomma il personale è qui. Per la città è una cosa molto importante perché una scuola media torna nel centro storico dopo la chiusura della Savini. E questo significa non solo riattivare delle attività ma anche dare un impulso economico, c'è un movimento di gente e quindi questo serve proprio per ritornare un po' in auge. Si chiamerà questa nuova scuola? Secondo te Melchiorre Delfico?